L'anno scorso gli studenti piemontesi hanno sfidato le scuole del mondo e hanno vinto insieme agli Stati Uniti. Sul gradino più alto del podio sono saliti gli studenti dell'Istituto Avogadro con una teoria sul calcolo dell'errore. Oggi sono 25 le scuole italiane e 11 quelle piemontesi che partecipano alla seconda edizione di Zero Robotics Competition. Il progetto, nato in collaborazione con la NASA, il MITE, l'ESA e l'Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte per promuovere lo studio e l'utilizzo della robotica negli istituti tecnici professionali. Gli studenti italiani, già al lavoro sui prototipi dei loro progetti, si troveranno a competere con quelli provenienti da 20 paesi europei. Il progetto si allarga, il coinvolgimento è maggiore, ma la cosa importante è che i nostri studenti abbiano finalmente la possibilità di mettere la testa all'interno delle nuove tecnologie e questa cosa sta ribaltando totalmente la didattica all'interno della scuola. Gli studenti in queste ore sono impegnati giorno e notte, visto anche il fuso orario, a provare e a mandare in esecuzione delle simulazioni. Per questa nuova edizione quali sono le tempistiche? I ragazzi stanno già lavorando ai progetti? Ancora due mesi per poter lavorare alla ultima simulazione, quindi a preparare il software che sarà poi inviato per le gare finali che si terranno nuovamente ad Amsterdam perché l'ESA ha fortemente voluto che le gare finali si tenessero presso il loro centro.